Quando parliamo di valutazioni di opere d'arte bisogna fare una distinzione tra opere trattate nel primo mercato e opere trattate nel secondo mercato. Le opere trattate nel primo mercato sono quelle opere di artisti emergenti ma non solo che sono vendute per la prima volta dalle gallerie di riferimento mentre le opere trattate nel secondo mercato sono tutte quelle opere di artisti consolidati o i cosiddetti artisti storicizzati che vengono venduti da dealer, case d'asta o gallerie e che quindi contano uno o più passaggi sul mercato. Quando si parla di opere d'arte trattate sul mercato primario non parlerei di valutazione ma di congruità del prezzo. Come si fa a stabilire che il prezzo richiesto da una galleria è un prezzo congruo? Sicuramente la congruità del prezzo è determinata in base alla qualità e all'originalità dell'opera che solo un esperto del settore può valutare in maniera professionale dal curriculum dell'artista e dalla galleria di riferimento. Per quanto concerne le opere trattate sul mercato secondario la valutazione è il risultato di un'attenta analisi delle variabili oggettive e soggettive dell'opera da valutare e dall'analisi dei prezzi di mercato dell'artista. Per quanto concerne i parametri oggettivi mi riferisco all'autenticità, stato di conservazione, letteratura, provenienza, pubblicazioni. Per variabili soggettive intendiamo la tipicità del soggetto, l'armonia della composizione, l'estetica dell'opera in generale e la valutazione di queste variabili può cambiare nel tempo a seconda dei gusti e dei trend di mercato. Per quanto riguarda l'analisi dei prezzi di mercato dell'artista, si utilizza il cosiddetto sales comparison approach, ovvero si analizzano i prezzi d'asta dell'artista per opere similari, per tecnica, dimensione e periodo. Ovviamente per selezionare le opere utili per il confronto è necessario avere molta competenza e anni di esperienza perché opere dello stesso artista di dimensioni simili e dello stesso periodo possono avere anche delle valutazioni diverse.